di questo nuovo video di fornit oggi sono contro una persona che io ho appena fatto dei ghita assurdi e dovrebbe essere uno scarsone vediamo se è vero perchè da quanto so si vabbè raga a me viene solo da fare il nabbo giocando con sta gente non mi posso impegnare ma guardalo che cosa guarda ierita ho missato un hit oddio tanto nabbo non è vero raga è una delle persone più nabbe del mondo e considerate che prima di saltare questa rec io ho fatto un bel 200 giusto per farvi capire cioè lui arriva tutto fiero boom boom lui edita boom 220 test oddio ce l'ho vicino vabbè vabbè raga non ho neanche capito che ho editato sono diventato troppo veloce io adesso aspetto Luca che faccio la striscia ma dov'è cioè non lo vedo vabbè vabbè raga raga facciamo così lo lascio in pace e lo faccio curare perché se no questo qui non sa più come giocare guarda guardatelo lo vedete che sta nel sì vabbè vabbè cioè io raga non volevo manco compirlo volevo solamente fare un mettere un muro una scala solo che l'ha messa dopo mi ha scattato e niente vabbè andiamo GG cos'è sto l'umore di un razzo oh what si era già curato e chi se l'aveva visto scusate raga il tryharding però si era già curato ah e vi faccio vedere una cosa però ve la faccio vedere dopo come avete visto ho rimesso subito il muro come era prima dopo aver esitato perché ho cliccato la rotellina e posso rifare il tasto sinistro e poi a 200 fps perché ho cambiato un paio di impostazioni ho diminuito la grafica scheda video un paio di altre cose ed è per quello che ora ho 200 fps e posso dare veramente al massimo la mia qualità vedete guardate con la rotellina come va veloce ecco come fanno i pro builder a chiudere sempre gli edit bene ah non l'ho visto vabbè raga mi posso far uccidere uè sono un hub sono un hub mi faccio uccidere sono un hub ah ora posso smetterla perché adesso mi impegno veramente mi sono fatto uccidere da un hub adesso raga sarà più motivato che mai perché ha visto che non sono tanto forte però adesso mi ha fatto arrabbiare troppo perché adesso lui pensa di essere chissà chi ma in realtà non è nessuno lui non è nessuno contro di me dai via qua via qua via qua dai sto pure giocando shiftato cos'è prima mi avevi ucciso con la R mi avevi ucciso con la R prima eh nabbo e quello lì è uno dei più forti giocatori non è vero uno dei più nabbi e comunque ragazzi vi le dico una cosa siamo arrivati in uno speciale di 40 iscritti quindi mi preparerò qualcosa nel mondo dove voi dovreste entrare siete 40 quindi ormai qualcuno che abbia le mie stesse cose dai erita grande cioè una cosa non doveva fare fare una cosa non doveva fare cercare di irritare in questo modo ma lui è mister nabbo volete vedere com'è aia raga mi rifaccio di uccidere volete vedere mi rifaccio di uccidere anzi non è si dai mi cura l'aria aperta faccio le cose da nabbo guarda adesso faccio così da 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 sono un nabbo dov'è ma ma dai ma sei ammazzato da solo questo ma ma io non ho parole c'è bastava che c'era un editor e entrava in sello ma lui non è un'intera invito al gogno non accetto grazie scusate sto in silenzio ma ma raga ma ma io non posso giocare questo genere guarda dai erita dietro non fare tanti pro perché riesce ad evitare una finestra guarda che mi vuole chiudere dalla safe non sai anche come ragazzi rimuori dalla tempesta rido what vabbè perché mi è tentato non mi sono a scapparo boh vabbè gg c'è vabbè sono troppo forte ma chi si crede di essere spammando questa r lo so fare benissimo anch'io è già 66 te lo tolto bro 176 vabbè vabbè raga cioè io sto giocando cioè io con chi io con chi sto giocando cioè vabbè vabbè ultimo round dai ci sbrighiamo vabbè l'ho fatto dall'altro lato ah bravo ho imparato a dire tra una scala lo sa benissimo anche Luca che io odio la gente che si cura mamma mia su fornite in ospedale fate quello volete curatevi io odio la gente che su fornite si cura mentre fighta cioè non ha senso ormai se ti ha smassacrato fatti uccidere ah d'accordo non lo vedevo aiuto non posso cambiarmi il loadout proprio niente giocherò con la r2 ah da stipo mega fastidio la r2 vabbè vabbè forse muoio perché non ho la r ne ho messo bene ah ho preso gli sceltini credo che fosse la r vabbè ho detto che odio la gente che si cura ma io mi posso curare ho messo la r bene quindi adesso non ho neanche una scusa sono riuscito a morire da un nabbo però uno contro cioè lui è a 2 io sono a 10 quindi guarda c'è pure caduto nel tranello l'avevo pure editato avete visto che l'avevo pure editato ma eh non ci credo più nabbo di così ragazzi c'è solo il dio del nab il dio dei nab che si chiama tipo nabbo vabbè ma c'è ricaduto ma io odio ho messato la r cioè ho messato il pompa ci sono rimasto malissimo vabbè sono troppo forte non c'è nessuno che mi batte a parte mongral ma mongral è più forte si sa allora allora attenzione signori cerca il double edit ti tendi ma lo sbaglia mi sto documentando ora solo faccio un po' pena sbaglia il pompa lo prende di poco non fa headshot fa un edit sbagliato non fa quello che vuole va dietro gira il nemico lo blocca da tutti i lati e lo ammazza con la air signori è troppo bravo a fare il commentary anche è un po' troppo in hobby vabbè vabbè è un 200 2,9 2,9 onesto mi sa che lui non è molto contento con quello che sta giocando con me oh si vabbè vabbè raga 200 me lo sentivo troppo che mi riuscivo a un 200 vabbè non ce ne sa la fa quando la gente è troppo scarsa perché ho piazzato la scala managgia ma perché canto male raga faccio il nabo uè 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 prendo il muro così pa ah 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 voi vi rendete conto che devo mettermi al suo livello che poi si muove veloce però non sa editare cioè mancava solo sapere editare questo qui manca solo sapere editare e poteva essere anche temuto cioè temuto dai prosciutti temuto però se o me trovo uno immaginate se tutti i nabili delle partite fossero così cioè io avrei 40.000 kill ho sentito che si stava appurando il signorino what come ha fatto a prendermi sto grattando il naso a posto vabbè raga eh non so cosa fare adesso facciamo così sto completamente in silenzio faccio sentire la mia tastiera a prendermi avete sentito la mia tastiera spero che questo vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace così mi fate capire che non sono scarso su fornet ciao a tutti ciao a tutti